Ciao a tutti, è morto all'età di 94 anni George Bush Senior, 41esimo Presidente degli Stati Uniti, che fu Presidente dall'89 al 1993. E che è fatto questo Presidente, prima di essere poi sconfitto nelle elezioni successive da Bill Clinton? Beh, fece una cosa molto importante, assieme a Mikhail Gorbachev, Presidente della loro Unione Sovietica, mise fine alla Guerra Fredda. Il 3 dicembre del 1989 Gorbachev e George Bush si incontrarono a Malta per sancire definitivamente la fine della Guerra Fredda. Quindi inizia una nuova epoca per il mondo, quel 3 dicembre del 1989, ormai diremmo quel lontano 3 dicembre 1989, perché di anni comunque ne sono passati quasi 30. E diciamo questo, che poi un'altra cosa che ha fatto questo Presidente, questa cosa qua che è stata invece, direi, non portata a termine fondamentalmente nel modo giusto, è stata la prima guerra del Golfo, quella con Saddam Hussein, dove per qualche motivo inspiegabile poi non si arrivò alla fine. Cioè Saddam Hussein restò lì al potere. E qua bisogna capire quali sono le dinamiche che lo spinsero, diciamo, a fare questo. Poi invece il figlio, George Bush Jr., diciamo così, portò a termine questa guerra. Però con la Seconda Guerra del Golfo, dove ovviamente Saddam Hussein poi fece la fine, che credo tutti sappiamo, cioè venne impiccato. E comunque, detto questo, niente, che dire, non è che i Bush mi abbiano ispirato particolarmente, però diciamo che soprattutto Bush padre, se forse ha fatto cose migliori rispetto a Bush figlio, e comunque, veramente, il passaggio alla storia è questo, secondo me, il 3 dicembre 1989, dove lui e Gorbaciov misero fine a un'epoca fondamentalmente. Gli eventi storici avevano assunto una connotazione tale per cui probabilmente era inevitabile, però diciamo che questo fu un passaggio fondamentale. E non da non sottovalutare, anche affinché si compisse, diciamo, questo fatto, l'intervento, comunque, di Papa Voitila. Ricordiamoci che allora c'era il pontificato di Papa Voitila, Papa Giovanni Paolo II, che lavorò molto, diciamo, per questo. Bene, per questo video è tutto. Vi do appuntamento al prossimo. Seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscrivetevi al canale, mettete un like, e se vi iscrivete al canale e attivate la campanella, potete partecipare alle live, e quindi chattare con persone interessanti e avere risposta alle vostre domande. Ciao a tutti!